Benvenuti a Imprese Quotidiane, oggi ci troviamo a San Vito di Cadore, presso il bar San Marco, attività associata a Ascomi in compagnia di Valentini. Ciao, ciao, buongiorno. Raccontami quando è nata questa attività. Il bar San Marco è un locale storico di San Vito, prima era un albergo, adesso è il bar. Io l'ho rilevato 5 anni fa, prima ero dipendente. Da quanti anni? Sono stata 3 anni prima, dipendente. Quindi è da un po' che lo conosco. E come sta andando l'attività? Io, ad essere sincera, non posso lamentarmi. Devo ringraziare soprattutto i paesani, perché noi lavoriamo soprattutto con i clienti del posto, con la gente del posto. Il turismo va in miele, no? È una fortuna, è una fortuna, assolutamente. E cosa ti piace nel tuo lavoro? Il poter conoscere e parlare con gente di nuova, discorsi di tutti i motivi, di tutto quello che può essere, di qualsiasi ragionamento, di rapporto col pubblico, assolutamente. E ci sono stati dei cambiamenti da quando hai iniziato qui ad ora? Un po' più negativo. Ma oddio, grandi cambiamenti no, sinceramente no, io non ne ho visti. È cambiato un po' il modo di lavorare. Magari una volta si lavorava più la sera, c'era più possibilità di lavoro. Adesso si lavora più la mattina, magari, perché comunque la gente la sera si ritirà. Perché magari fate col bar? Noi apriamo le 5 di mattina e chiudiamo le 8 e mezza di sera. Insomma, è un bel turno. Sì. Mi consigliete una fascia. Sì, cerchiamo di... Sì, cerchiamo di dare un servizio anche. E quali sono i servizi ASCOM di cui avalete principalmente? Ma io ho tutto in ASCOM, dalla contabilità, alla servizio a paghe, a consulenze, un buon appoggio. Assolutamente. Totale con l'ASCOM, perché proprio io mi affido solo all'ASCOM. Valentina, grazie. A voi. In bocca al YouTube. Grazie. Per la puntata di oggi è tutto, ma noi ci vediamo domani con Imprese Quotidiane. Per fortuna c'è l'ASCOM. Per me.